Mentre sui vaccini anti-influenzali ritirati l'associazione dei consumatori Codacons ha depositato un esposto alle procure di Torino, di Varese e di Milano, territorialmente competenti per le aziende Novartis e Crucel in relazione alla vicenda dei vaccini ritirati, a Milano la campagna anti-influenzale è a rischio. Sono 75.000 che si aggiungono alle 65.000 bloccate la scorsa settimana dalla Crucel, le dosi che mancano a Milano. L'allarme arriva dopo la decisione del Ministero della Salute di bloccare in via cautelativa i farmaci prodotti dalla Novartis. In realtà si tratta di un lotto di una fornitura più ampia che aveva delle questioni da definirsi rispetto alla reattogenicità, quindi in questo momento direi una tranquillizzazione rispetto a una campagna vaccinale che comunque deve partire da metà novembre in poi, forse qualche problema di approvvigionamento se la ditta non potrà esaudire le forniture rispetto ad altre aziende che però possono subentrare. Ritengo che nessuno si sia vaccinato con questo vaccino, ma ritengo anche che qualunque qualcuno l'abbia fatto ha solo rischiato delle reazioni avverse che però noi diciamo ci possono essere in ogni caso. Com'è possibile che aziende farmaceutiche così prestigiose che compongono quasi una lobby capace di scatenare campagne pro vaccino incorrano in questo tipo di incidenti? Io contesto il fatto che si tratti di lobby, si tratta di un intervento di sanità pubblica considerato dall'OMS, che poi ci siano interessi aziendali dai produttori, è ovvio, e che quindi come ci sono i produttori di pistole piuttosto che di bare, di drammi terribili che possano avere un interesse economico e possono influire, quindi senz'altro non lo nego, non siamo nel mondo dei sogni, ma sicuramente l'intervento è positivo. Purtroppo nel tempo c'è stata una serie di incapacità nel comunicare le cose nel modo giusto che è stato possibile dagli antivaccinatori, da una quota di persone che non sono convinte dell'opportunità della vaccinazione, di far istillare meglio il dubbio rispetto alla capacità delle istituzioni di ribadire la rilevanza di questo fenomeno.